quando l'avvocata eh che se lì se l'avvocata metterai metterai si lo so ma inguaiato ma tanto ho detto io e non ho detto la proposta eh vedete che immagino qualcosa mi ho imparato pure io qualcosa mi ho imparato a niente perché non balla sulle mani eh aiutateci è uno, due, tre è uno, due, tre Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.